Musica Spettatori e spettatrici, bentrovati e buongiorno. Nuovo appuntamento con la rassegna stampa a cura di Teledeon. L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Francesco e la questione politica con il disegno di legge Zan. Questi temi principali di oggi 5 luglio sulle prime pagine dei giornali. E allora partiamo subito dal Corriere della Sera. I vaccini ci sono, già una dose a 6 italiani su 10. Questa è la dichiarazione di figliuolo del commissario straordinario per l'emergenza Covid alle regioni. Ritardi non motivati, immunità di gregge a settembre ce la faremo. Poi a centropagina, ecco Papa Francesco, il Papa operato al Gemelli, al Policlinico Gemelli, ha reagito bene a Angelus e Sorrisi. Poi in ospedale, dopo l'Angelus, il Papa è salito su un'auto che lo ha accompagnato al Gemelli per essere operato al Colon. E dall'ospedale, dal Policlinico, dichiarano, ha reagito bene all'intervento. Poi la questione politica, lo scontro tra Giuseppe Conte e Grillo. Due settimane per trovare un'intesa. La crisi nei 5 Stelle serviranno un paio di settimane per poter trovare un'intesa e ristabilire la pace tra il garante Beppe Grillo e l'ex premier Giuseppe Conte. Ancora sullo scontro tra Conte e Grillo, l'intervento del presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, il patto con i 5 Stelle non è scontato. L'alleanza PD e 5 Stelle non è affatto scontata, dice il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. La decisione non si prende a tavolino, ma una strada esiste. Un'asse sarà naturale se il Movimento avrà un'impostazione riformista. E poi, come vi dicevo a inizio di puntata, il disegno di legge contro l'omofobia. Zan, tensione nel governo. Adesso sul DDL Zan lo scontro è tra i partiti del centro-sinistra. Tensioni anche nel governo dopo gli emendamenti di Italia Viva. E poi, in taglio basso, sempre nella prima pagina del Corriere della Sera, la cronaca con Paola e Martina morte sul Monte Rosa, le amiche assiderate, mani congelate per un alpinista che era con loro. I miei guanti per aiutarle. Sono morte assiderate sul Monte Rosa, le due alpiniste erano state bloccate dal maltempo a 4.000 metri di quota. Inutili i soccorsi. Con loro c'era anche un altro alpinista con le mani congelate. Ma è stato salvato. E ora passiamo alla Repubblica. Anche la Repubblica a centro pagina. Titola sul DDL Zan. Disegno di legge Zan. Patto Lega Italia Viva. Intesa sugli emendamenti alla legge contro l'omotransfobia. al voto in Senato. PD e 5 Stelle invece dichiarano il testo non si tocca. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dichiara meglio un compromesso sui principi del nulla. E aggiunge accordo per il colle con la destra. E poi il Papa, appunto l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Francesco, lo approfondisce anche la Repubblica, ha ricoverato al Gemelli per un'astenosi del colon. Il Papa ha operato intervento fino a notte e ha reagito bene. Poi abbiamo la cronaca sulla pandemia. Virus caccia 7 milioni di anziani e ragazzi non vaccinati. Questi i temi oggi sulla Repubblica. Passiamo alla stampa, il giornale di Torino, che apre sulla pandemia. Effetto Delta anche in Italia. Variante chiaramente, qui ci si riferisce alla variante Delta. Effetto Delta anche in Italia. Dopo tre mesi il virus risale. Miozzo, Agostino Miozzo, dichiara rischioso riaprire le scuole. A settembre sarà ancora emergenza. E poi ancora aumenta il numero dei contagi. Gli esperti, il tracciamento non funziona. Anche la stampa, il giornale di Torino, approfondisce la notizia legata al Papa. Il Papa operato, intervento riuscito. E poi anche la stampa approfondisce la cronaca con la tragedia del Monterosa, Paola e Martina, morte di freddo, lassù, vicino alle stelle. Poi viene approfondita anche, viene ricordato quanto accaduto a Genova nel 2001. Quest'anno ricorrono appunto i vent'anni. Genova 2001-2021, sangue, pestaggi, quello che non abbiamo imparato dai disastri del G8. Un articolo di Concita De Gregorio. Ora passiamo al giornale economico. Il Sole 24 Ore, che nel taglio alto della prima pagina mostra un'indagine demoscopica. Governance Paul, Zaia e De Caro al top. Zaia è il presidente della regione Veneto e De Caro invece il sindaco di Bari. Crollano i sindaci invece a Catania e Napoli. E allora illustra sempre in prima pagina nel Sole 24 Ore alcuni risultati emersi da questa indagine demoscopica. Governatori, per quanto riguarda i governatori, Bonaccini, ossia il presidente della regione Emilia-Romagna, è secondo. De Luca, Campania e Fedriga, Friuli-Venezia-Giulia, terzi alla pari. Invece per quanto riguarda i comuni, risultati opachi di Sala e Raggi, rispettivamente sindaci di Milano e Roma. Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, invece terz'ultimo. Titolo invece del Sole 24 Ore è Tris di aiuti ai POS, svolta contro i contanti. E qui ci si riferisce chiaramente ai pagamenti digitali. E poi in Spalla, carburanti, frodate, IVA e accise per 4,3 miliardi, il dossier della Guardia di Finanza. E poi la pandemia taglia premi e intese. Ma approfondiamo questo trafiletto legato alla scuola. In arrivo garanzie per 70 mila precari. Si allargano le maglie della stabilizzazione prevista nel decreto sostegni bis. Governo e maggioranza sono d'accordo a passare da 18.500 a 70.000 professori precari, docenti precari, ma sono divisi sul come. Ora passiamo ai giornali locali. Anche la Gazzetta del Mezzogiorno approfondisce intanto la notizia dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Francesco. Francesco, notte di attesa, il Papa al Policlinico Gemelli operato al Colon, l'intervento è riuscito. Messaggi da tutto il mondo. Intanto in Italia riparte la guerriglia sul disegno di legge Zanne. Poi una notizia che approfondiremo nel corso di questa puntata. Barletta, le unghie dei bimbi svelano i danni dell'industria. Rapporto shock, saluti a rischio. L'ASL di Barletta, Barletta Andrea Trani e il Comune, no allarmismi. I dati sul biomonitoraggio, fari sull'ex cementeria, sempre di Barletta. Intanto in Puglia il leader della Lega, Salvini, chiude il tour. Emiliano è un monarca. E poi carceri. Affoggia e Melfi le denunce di altri pestaggi dopo il caso Campano, detenuti trasferiti altrove. Infine, sempre in prima pagina, l'allarme dell'Università di Bari, erosione delle coste. Così scompaiono le spiagge pugliesi. Ora passiamo al giornale di Roma, il messaggero. Il messaggero che in prima pagina ha la dichiarazione dell'assessore regionale alla sanità, scuola mai più didattica a distanza nel Lazio. L'intervista ad Amato, appunto, assessore regionale alla sanità. A settembre, immunità diffusa con il 70-80% di studenti vaccinati. Risale il tasso di positività per vacanze a causa di vacanze e assembramenti senza mascherina. Un contagio su 5 e under 18. Poi anche il messaggero, a centro pagina, la foto del Papa, l'Angelus, poi l'operazione al colon. E infine l'ENAC, ossia l'ente nazionale della versione civile che lancia un monito alle compagnie aeree low cost date ai posti vicini senza sovrapprezzo. Passiamo al giornale di Napoli, il mattino. Sanità al sud, basta risparmi. e la dichiarazione di Franco Locatelli, che è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, intervistato, appunto, dai giornalisti del mattino. Il tasso di mortalità infantile è inaccettabile, dichiara Locatelli. Nelle regioni uscite dal commissariamento, i manager non possono solo ridurre le spese. e anche il mattino, notizia sul Papa, il Papa, il ricovero dopo l'Angelus. Infine, sempre in prima pagina, agenti sottotiro fuori dal carcere, solo in Borghese, dopo gli striscioni con le minacce circolare alla polizia penitenziaria. Ultima lettura della prima pagina, poi andremo alle pagine interne, il quotidiano del sud, c'è bisogno di un'empatia collettiva, l'Italia verso la nuova ricostruzione e la sua grande occasione che non va sprecata. Per questo Draghi, come sta facendo, deve sempre di più comunicare le scelte e la rotta perché mancano filtri interpretativi capaci di trasferire il messaggio partendo dalle scelte compiute. I mercati e gli investitori globali si fidano di Draghi, facciano altrettanto i partiti politici italiani, abbiano almeno l'intelligenza di capire che questo governo di unità nazionale può prendere quelle decisioni impopolari su giustizia, pubblico, impiego e regioni che loro non vogliono o non sono capaci di prendere. E poi due notizie interessanti che purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire. Ecco perché i giovani abbandonano l'università, questa è l'inchiesta di Luca Lamantia, e poi giovani, donne e scienza, un binomio vincente, nuove frontiere di Fabrizia Sernia. Allora, ricominciamo dalle pagine interne, andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera, l'intervista, come già preannunciata in prima pagina, al commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, il commissario dichiaria non ci sarà alcuna necessità di sospensioni ad agosto, con le dosi di ieri è stata raggiunta quota 20 milioni di immunizzati. E poi il titolo a centropagina, le regioni, da noi non c'è alcun ritardo, ora bisogna andare spediti. E allora, Fiorenza Sarzanini scrive, le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale, ai governatori che lamentano ritardi nelle consegne, nel giorno in cui viene raggiunta la quota di 20 milioni di italiani immunizzati, il commissario Figliuolo risponde diretto, e assicura che riuscirà a raggiungere l'obiettivo dichiarato dell'immunità di gregge entro la fine di settembre. Ci sono alcune regioni che rinviano gli appuntamenti e altre che paventano sospensioni delle somministrazioni ad agosto. Non ce ne sarà alcun bisogno, assicura il generale, che conferma la volontà di agevolare le forniture per chi vuole avere la seconda dose in vacanza. Per tutti vale l'ordinanza firmata agli inizi di giugno, che consente il riequilibrio delle dosi da distribuire. Vi leggo soltanto prima domanda e prima risposta. Sarzanini chiede, le regioni lamentano ritardi, generale Figliuolo, com'è davvero la situazione? Al che il generale Figliuolo risponde, se confrontiamo luglio con giugno, c'è una flessione del 5% dei vaccini Pfizer e Moderna, ma non parlerei di ritardi. Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45,5 milioni di dosi di questi vaccini, che sono i più usati. A luglio è prevista la disponibilità di circa 14,5 milioni di dosi, rispettivamente circa 12 di Pfizer e circa 2 di Moderna, che assicureranno anche le vaccinazioni eterologhe per gli under 60, che hanno fatto come prima dose il vaccino AstraZeneca. E così continua l'intervista al generale Figliuolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 2 e 3 del Corriere. Andiamo nella pagina interna della Repubblica, anche qui ci soffermiamo sulla pagina, su pagina 2, tema diverso, il tema politico, la questione politica, il disegno di legge ZAN, intesa di Italia Viva e Lega sulle modifiche, PD e 5 Stelle invece dichiarano, come già annunciato in prima pagina, il testo in aula, così come l'accordo su una versione alternativa del disegno di legge contro l'omotransfobia, non c'è. Domani al Senato si vota per portare la legge in aula il 13 luglio. E i partiti di Renzi e Salvini, rispettivamente Italia Viva e Lega, trattano sugli emendamenti. Il leader del partito democratico, Letta, Enrico Letta, dichiara vogliono affossarla. E Giovanna Vitale scrive, o si trova una mediazione, o in aula sarà il Vietram. Lega e Italia Viva sono d'accordo anche su questo, non solo sulle tre correzioni indispensabili per votare a favore del DDL ZAN, segno di una consonanza tra i due Matteo, che ormai travalica il merito del provvedimento, pronta a tradursi in una comune strategia parlamentare. Se domattina, al tavolo dei capigruppo, convocato per le 11, non si raggiungerà un compromesso sulle modifiche da portare alla legge contro l'omotransfobia, nel pomeriggio i renziani diranno sì alla calendarizzazione nell'emiciclo del Senato, previsto per il 13 luglio, ma lì poi presenteranno i loro emendamenti, in larga parte coincidenti con quelli del centro-destra. con cui i contatti sono continui. E allora partirà una conta cruenta, resa ancora più incerta dal voto segreto che il regolamento di Palazzo Madama autorizza su temi relativi ai rapporti civili ed etico-sociali. Queste le prime battute dell'articolo di Giovanna Vitale sulla Repubblica e sul tema politico di D.L. Zan. Passiamo ora alla stampa. Alla stampa invece approfondiamo la tragedia del Monterosa e quindi la cronaca. Intanto capiamo che cosa è successo. Le tappe della vicenda, Martina Paola e Valerio stanno scalando un versante del Monterosa, si accorgono che sta per arrivare la bufera, ma a causa della nebbia perdono l'orientamento. Alle due e mezza del pomeriggio chiamano il 112, inutile una prima ricognizione, alle 19.30 la seconda chiamata di aiuto. L'elicottero del soccorso alpino Valdostano porta le squadre a quota 3.500 metri da dove proseguono a piedi. Poi poco dopo, le 21.30, le 9.30 della sera, i tre vengono trovati sotto la piramide Vincent. Per le due donne non c'è più nulla da fare. A mezzanotte l'uomo viene trasportato all'ospedale di Sion in Svizzera. E allora Paola e Martina, l'amore fatale per la montagna, travolte dalla bufera, le due alpiniste sono morte assiderate. E i soccorritori hanno dichiarato non si riesce a resistere in queste condizioni. E qui a pagina 2 Cristina Porta da Aosta spiega che cosa è successo fra la cronaca di questa tragedia. Passiamo invece ora alla pagina interna del giornale economico e del Sole 24 Ore. Qui invece approfondiamo l'indagine demoscopica a cui il Sole 24 Ore ha accennato in prima pagina. Allora, Zaia, ossia il presidente della Regione Veneto, è superstar, scatto invece di Bonaccini che è il presidente dell'Emilia Romagna, presidente di Regione. Il consenso del leader Veneto cresce in un anno, pensate, al 74%. E il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, scalza dal secondo posto, Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, mentre De Luca, governatore della Campania, si insedia ex equo, quindi a pari merito, al terzo. Zingaretti, presidente della Regione Lazio, recupera 11 punti. Allora, Gianni Trovati scrive come tutte le indagini demoscopiche che provano a misurare il gradimento dei presidenti di Regione, anche il governance poll incontra da qualche anno un problema che ne riduce la suspense. Vince sempre Zaia. Ma dietro al presidente leghista che guida il Veneto da 11 anni e anche in questa edizione della rilevazione annuale realizzata da noto sondaggi per il Sole 24 Ore, rafforza ulteriormente il proprio tradizionale primato in classifica. Qualcosa si muove e rompe il monocolore di centrodestra che lo scorso anno dominava ai piani alti della classifica. Sul secondo scalino si piazza il presidente Emiliano Romagnolo Stefano Bonaccini che è appunto del Partito Democratico. Ora, passiamo ai giornali locali, andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno e qui andiamo a pagina 8 come vi dicevo, approfondiamo la notizia legata a Barletta Bambini esposti alle polveri sottili, Barletta concentrazione nell'area dell'ex cementificio, l'esame sulle unghie, effetto inquinamento nelle aree limitrofe all'opificio, all'industria che ospitano case e scuole. Comune di Barletta e Asla di Barletta Andrea Trani dichiarano niente allarmismo. Rino D'Aloiso da Barletta scrive dei bambini non mentono quasi mai le loro unghie anche e così come sensori delicati e sensibili sono in grado di rivelare che inquinamento fa nelle aree in cui vivono. A Barletta il dottor Agostino Di Ciaula, referente regionale dell'ISDE, ossia l'Associazione Medici per l'Ambiente, ha ricevuto nel 2019 da Aslbat e dal Comune di Barletta l'incarico di effettuare un biomonitoraggio sull'estremità delle dita dei bambini. Ne ha esaminati 366 e i risultati non sono per nulla confortanti. Scrive infatti il dottor Ciaula al termine dell'indagine inviata il 26 giugno scorso all'Asd e al Comune i risultati principali dimostrano purtroppo che nelle aree di maggior ricaduta degli inquinanti prodotti dal cementificio che ospitano case e scuole c'è una maggiore concentrazione atmosferica di PM10 ossia polveri sottili questa è la nota del redattore rispetto alle aree controllo con livelli di esposizione superiori ai limiti annui indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di più i bambini maggiormente esposti alle emissioni dell'impianto hanno un maggiore bioaccumulo di nickel cadmio mercurio e arsenico rispetto a chi è invece prevalentemente esposto al solo inquinamento da traffico veicolare queste le prime battute che purtroppo non possiamo leggere integralmente per questioni di tempo di Rino D'Aloiso ora passiamo al messaggero e qui andiamo a pagina 2 e approfondiamo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Papa Francesco Bergoglio al gemelli operazione al colon ha reagito bene il ricovero a sorpresa del Papa era stata già programmata prima di andare in ospedale ha condotto l'Angelus arriva in auto come un paziente qualsiasi e si è trattata si è trattato di una laparoscopia poi l'intervento a cielo aperto ieri a mezzogiorno sotto una cappa d'AFA micidiale i gruppi dei fedeli radunati in piazza San Pietro per vedere Papa Francesco non hanno notato nulla di strano Bergoglio ha sorriso salutato e poi ha preso a parlare di quel passo del Vangelo che dava conto dell'incredulità dei contemporanei di Gesù davanti alle sue predicazioni la voce di sempre l'incedere nei toni intervallato da qualche aggiunta braccio poi nel post angelus ha riferito che andrà a settembre in Slovacchia e Ungheria nessun segnale di debolezza fisica nemmeno nel volto si scorgevano segni di affaticamento il solito appuntamento domenicale al quale però ha fatto seguito un'autentica doccia fredda la notizia che è stata anticipata dalla DN Kronos che in meno di un secondo ha fatto il giro del mondo Francesco stava andando al Gemelli per essere sottoposto entrosera ad un intervento al colon queste le prime battute dell'articolo di Franca Giansoldati sul messaggero passiamo al mattino andiamo a pagina 7 l'intervista Franco Locatelli coordinatore del comitato tecnico scientifico sanità al sud basta solo tagli e risparmi i manager usino il criterio della competenza non la politica il gap la differenza di mortalità infantile con il nord va eliminato rafforzando l'offerta assistenziale e allora Lorenzo Calò scrive differenze territoriali inaccettabili che violano il principio di tutela della salute costituzionalmente garantito a ogni cittadino dovremo mettere in atto ogni sforzo perché tali disparità vengano eliminate il professor Locatelli direttore del dipartimento di oncoematologia del bambino in Gesù ordinario di pediatria alla sapienza e presidente del consiglio superiore di sanità e dallo scorso 17 marzo coordinatore del CTS il comitato tecnico scientifico che affianca il governo nella complessa gestione sanitaria dell'emergenza covid ma questa volta non è di SARS-CoV-2 che parla i dati shock emersi dal report della società italiana di pediatria sulla mortalità infantile e neonatale nelle regioni del mezzogiorno non lo hanno lasciato indifferente né come studioso né come medico né come accademico né come responsabile di un organo di consulenza scientifica del ministero della salute qui parte tutta l'intervista che vi consigliamo di leggere chiudiamo con l'ultimo giornale il quotidiano del sud leggiamo alcune battute dell'editoriale di Roberto Napoletano mi ha fatto piacere seguire Enrico Letta segretario del partito democratico nella prima settimana di aprile a porta a porta mi ha colpito favorevolmente sentirlo ripetere una cosa che i leader politici italiani dicono poco e che purtroppo forse nemmeno pensano ha detto cito a mente più o meno così viviamo un momento storico unico e abbiamo calato l'asso si riferiva a Draghi e si riferiva alla scelta di Mattarella ha aggiunto io la vedo da fuori per far capire l'attenzione e l'aspettativa che questa scelta ha determinato a Parigi dove lui ha vissuto per sei anni dirigendo la scuola politica internazionale di Science Po e in genere in Europa e nel mondo soppesando queste parole Letta ha mostrato consapevolezza che non vuol dire che Draghi ha la bacchetta magica e che può fare miracoli che non vuol dire che il mondo si aspetta miracoli da Draghi e che gli italiani devono credere in questi miracoli che vuol dire un'altra cosa più sottile e profonda che è quella che con il quotidiano del sud peraltro in sostanziale solitudine andiamo ripetendo dal giorno dell'incarico a Draghi la reputazione internazionale dell'uomo non quella dell'accademia ma quella delle cose fatte sul campo tre parole wherever it takes che hanno salvato l'euro e il primato della politica in Europa fanno del grande italiano Mario Draghi il cittadino europeo più stimato nel mondo questo visto da fuori ci fa capire Letta carica tutti in casa di grande responsabilità perché se dovesse fallire il governo di unità nazionale voluto da Mattarella e guidato da Draghi il mondo si interrogerebbe su noi italiani potrebbe arrivare a conclusioni poco rassicuranti queste le battute di Roberto le battute le prime battute dell'articolo di Roberto Napoletano direttore del quotidiano del sud e con queste vi lascio vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e ci vediamo domattina domattina